Nessuno. Allora, come si sono dite, approvato... ...e a breve diventerà un grande ordine alla pari di quelli di Napoli e Roma. C'è Napoli Nord, certamente vola verso i grandi ordini, siamo ad un passo dal diventare uno degli ordini più importanti della nazione, ci mancano appena 10 iscritti, quindi diventeremo un grande ordine a brevissimo. Abbiamo un bilancio approvato all'unanimità, ma innanzitutto un bilancio molto solido, dove abbiamo dei residui attivi che superano i residui passivi di oltre 100.000 euro, abbiamo un bilancio che non espone particolari debiti, se non tutti ampiamente coperti, quindi abbiamo un'ottima amministrazione, un bilancio trasparente e equilibrato. E proprio grazie alla politica di particolare attenzione alla spesa, siamo riusciti per il prossimo anno a ridurre la quota dell'iscritto di oltre il 10%, che è una cosa importante, anche se non significa molto una quota del 10%, è un segnale che l'ordine vuole mandare all'iscritto nel senso che gestisce i soldi pubblici, i soldi dei suoi iscritti con grande attenzione. Siamo veramente contenti di una grande partecipazione dei nostri iscritti che dimostrano l'affiatamento al nuovo ordine di Napoli Nord, che chiude il bilancio 2016 con un avanzo di amministrazione consistente e quindi a dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, per cui siamo contenti, siamo diretti a organizzare eventi e convegni sull'anno 2017 a sostegno dei nostri iscritti e nell'ambito e nell'ottica di una crescita professionale per tutti gli iscritti stessi, ma anche per Napoli Nord.